Quando i vini non sono autentici o quanto i vini sono replicabili, vuol dire che non hanno una possibilità di vivere così a lungo come questi Negro Amaro che abbiamo assaggiato. La 96 era l'annata tra quelle provate un poco più in difficoltà, però per esempio la 93 è stata straordinaria e soprattutto la 97 è stata straordinaria. Quindi è la conferma della longevità di questi grandi vini rossi che hanno mantenuto soprattutto una freschezza. La freschezza in un vino è come la freschezza nella frutta. Quando la frutta perde freschezza marcisce, così è anche un vino. Quando non è più fresco vuol dire che diventa ossidato e non si può bere, ha questi odori troppo andati, di cotto, che stancano il palato e che non invogliano la beva. Invece la straordinarietà di stasera è che anche un vino di 20 anni, non pensato per vivere 20 anni, era giovane come un bambino.